Potessi avere io gli addominali, essere bello e magro, mangiare senza mai ingrassare, e piacere a tutte e fargli tanto sesso. E non vorrei vedere più il mio viso, quanto mi è gonfiato, sto giro vita smisurato, con sti cibi che mi ingrassano. Mi ha detto il mio dottore, che ce la posso fare, che se il suo metodo voglio seguire, sicuramente posso dimagrire, che ho 30 kg da restituire, e poi quel giorno potrò andare al mare. Vorrei tornare ai chili miei, possiamo farlo insieme, quel che devo fare è solo non mangiare mai. Quante volte io ti ho invocato, aiuto a te che sei il dottore mio, che conosci il peso mio. Quante volte ti ho cercato, e ti ho gridato, sono disperato, mentre guardavo con gli occhi giù, l'arancina che c'avevo in mano, e che mi hai tolto tu. Adesso che ti seguo sai, da poco più di un mese, a parte costi e spese, tutta la roba da acquistare, ma sì lo devo dire, mi hai fatto dimagrire, sono felice, grazie mio dottore, io perdo un chilo ogni 18 ore, e al peso forma ci si può arrivare, e poi quel giorno potrò andare al mare. Vorrei tornare ai chili miei, possiamo farlo insieme, a me, quel che devo fare è solo non mangiare mai. Quante volte io ti ho invocato, aiuto a te che sei il dottore mio, che conosci il peso mio. Quante volte ti ho cercato, e ti ho gridato, sono disperato, mentre guardavo con gli occhi giù, l'arancina che c'avevo in mano, e che mi hai tolto lui. Sento il profumo suo, ma è nella mente mia, ciò che devo assolutamente fare è, e non entrare alla rosticceria. Quante volte ci ho provato, ho rinunciato, mi son bloccato, ripensando a quel che hai detto tu. Sergio Forza adesso piace a tutte, gli fai sesso tu. Forza adesso Forza adesso